Da Zain, benvenuti a questo video su Machiavelli. Vedete, io volevo fare il video con la gatta e sono riuscito ad attirarla con un stratagema machiavellico per poter fare il video insieme a lei, vedete, per dimostrarvi quanto Machiavelli può essere educativo e insegnarvi le strategie politiche per avere la meglio sugli esseri più astuti, come ad esempio i gatti. Niccolò Machiavelli nasce a Firenze nel 1469 da una nobile famiglia decaduta, quindi non tanto ricca. Però si interessa moltissimo degli studi letterari, del latino, degli studi umanistici, soprattutto della storia, del studio della storia e anche dell'arte della politica. Infatti vuole diventare uomo politico e nel 1498 prova a diventare segretario della seconda cancelleria a Firenze. Però non ci riesce perché gli viene preferito un seguace del Savonarola, che lui osteggerà molto nella sua vita. Infatti Machiavelli è famoso per la sua arte politica, il realismo, invece Savonarola seguiva una corrente più spiritualista. Poi riuscirà a diventare segretario di Gran Cancelleria e a lui saranno affidati dei compiti soprattutto diplomatici. Quindi andrà in Francia, in Germania, in varie missioni e presso le corti estere per trattare, per risolvere questioni contese. Perché allora Firenze era una repubblica, però poi dopo arriveranno i medici che se la riprenderanno. Però l'Italia è tutta divisa in vari staterelli, lo Stato della Chiesa, la Repubblica di Venezia, insomma vari Ducati, che si contendono tra di loro il potere facendoci guerra e che sono anche contesi da potenze straniere, la Francia, la Spagna, tutto l'impero di Germania. Quindi l'Italia è una realtà multiforme che si allontana un po' dallo Stato moderno, che invece tende ad essere più unitario, come accadrà per la Francia e per la Spagna. In Spagna, grazie al matrimonio tra Aragona e Castiglia, si creerà una maggior unità. L'Italia invece sarà sempre un po' divisa anche durante l'età moderna. E questo porterà un modo di pensare anche diverso. Infatti lo stesso Machiavelli sostiene che in realtà l'uomo è avido, guerra fondaio, tende a lottare contro gli altri per i propri interessi. Quindi c'è una visione, diciamo, un po' obsiana dell'uomo. Infatti Machiavelli però si caratterizza nelle sue opere per il suo realismo politico, che si contrappone all'utopismo, per esempio, di Thomas Moore, di Campanella e di altri. Torniamo alla sua vita. Dopo aver svolto queste operazioni diplomatiche, tra cui anche, per esempio, la conquista di Pisa da parte di Firenze, nel 1512 torneranno i medici. E lui verrà accusato di tradimento, di essere pro-repubblica. E quindi andrà a San Casciano, dove scriverà la maggior parte delle sue opere. Prima di tutto, gli Epistolari. Epistolari, per esempio, è dedicato al suo amico Francesco Vettori. Ci sono molte comunicazioni interessanti. Conosciamo Machiavelli attraverso le sue relazioni diplomatiche, che ci descrivono le situazioni, per esempio, dei francesi. Come lui descrive i francesi, è molto interessante. È un popolo avido, ignavo, però capace di un sentimento unitario e quindi di creare uno stato unitario, insomma. Poi nel 1513 si scrive l'opera più, sua più importante, Il Principe. Nel 1515-18 i discorsi sopra la prima decada di Tito Livio, perché lui si occupa molto di storia. C'è una visione storica della realtà politica. Cioè il politico non può non conoscere la storia. E quindi li descrive la politica di Roma, dell'antica Roma, su cui lui ha molta ammirazione. Perché lui dice che gli antichi romani, è vero, erano molto avidi, guerra fondai, corrotti, hanno fatto mille lotte tra di loro, uccisioni, violenze, però alla fine hanno creato un sistema legislativo ben funzionante, uno stato, un impero che è riuscito a sopravvivere per secoli. Quindi in questi discorsi sopra la prima decada di Tito Livio racconta la politica interna di Roma, la politica estera e anche le vite dei singoli cittadini. Nel 1519-1520 poi c'è l'arte della guerra, in cui descrive come il sovrano, come un popolo che vuole, insomma, avere la meglio deve fare bene la guerra. Perché allora c'era molto ricorso a soldati mercenari e i mercenari però tradiscono facilmente, non sono fedeli al sovrano. Quindi un vero sovrano, comunque uno stato che vuole governare, mantenere il suo potere, deve avere un esercito permanente e in questo periodo sta cambiando il tipo di esercito. Una volta c'erano i nobili, che erano cavalieri a servizio del re, la nobilità di spada sta decadendo nel periodo della storia moderna. Anche nell'esercito cambia, perché ci sono gli archibugi, ci sono l'invenzione della polvere da sparo, le armi, e quindi cambia, non c'è più la cavalleria, ma diventa un esercito di fanteria. Questo cambia anche il modo di fare la guerra, perché immaginate le vecchie guerre, diciamo, con la origa, i cavalli, c'era la spada, insomma, ci si affrontava in modo molto più diretto e si faceva magari anche dei corpo a corpo. Invece con l'invenzione dell'archibugi o poi della pistola, un soldato può uccidere il suo nemico anche da lontano, anche stando nascosto, e quindi viene molto più deresponsabilizzato e c'è anche possibilità, vuol dire che poi ci sono anche i cannoni, di compiere delle stragi senza esporsi troppo. Diciamo, cambia proprio il modo di fare guerra, però questo assicura anche la vittoria. Ed è interessante come nella presa di Pisa, a un certo punto Pisa si era resa indipendente, era contesa con la Francia ed era alleata di Venezia e Firenze voleva conquistarla e aveva mandato questo capitano di ventura, Paolo Vitelli, per conquistarla. Era riuscito a fare una breccia nella porta di Pisa, però poi Paolo Vitelli ha avuto degli indugi, non è penetrato a Pisa e non ha conquistato Pisa. Allora Machiavelli ha detto, però lui per dare l'esempio deve essere condannato a morte, anche perché c'era il sospetto, non si sapeva se avesse tradito o meno. Lui ha detto, se ha tradito deve essere condannato a morte, se non ha tradito comunque non ha raggiunto lo scopo per cui per tanti anni abbiamo combattuto, quindi deve essere comunque decapitato. Alla fine questo capitano di ventura è stato decapitato. Poi nel 1519 scriverà le storie fiorentine Machiavelli, la storia di Firenze fino al 1434 e fino anche alla morte di Lorenzo il Magnifico, 1492, che è poi anche l'anno della scoperta dell'America. Lui nei suoi primi scritti difende la Repubblica come miglior sistema, perché nella Repubblica si confrontano più menti, insomma alla fine si riesce ad avere la meglio, non vengono privilegiati gli interessi particolari, mentre nel Principato c'è più rischio che il padrone, il signore difende i suoi interessi particolari. Si occuperà anche della lingua, scriverà vari tipi di opere, sicuramente delle opere in prose, delle opere in poesia, delle novelle, ad esempio la Mandragola, questa commedia satirica di una comicità cupa, dove Callimaco ambisce alla moglie Lucrezia di un nobile e con l'inganno attraverso questa erba riesce a ingannare il nobile per riuscire ad avere la meglio. Anche nel Clizia c'è sempre l'aspetto delle donne dell'inganno, quindi l'astuzia per Machiavelli è una virtù molto importante. Infatti nel Principe questo emerge, nel Principe che è poi dedicato a Lorenzo dei Medici e alla figura di Cesare Borgia, di cui non abbiamo parlato, ma è una figura molto importante per Machiavelli, una figura che era un suo nemico, però lui in realtà ammirava molto, Cesare Borgia, figlio di Alessandro VI, era riuscito con la protezione del padre a conquistare varie città, Urbino, Arezzo e vari paesi dell'Umbra e della Romagna e avere tutto un suo principato, a arrivare al potere. Lui Machiavelli lo ammirava proprio perché con l'astuzia, con l'inganno, a volte anche con la violenza, con la forza, era riuscito ad avere tanti possibilimenti. Infatti nel Principe c'è questa figura ideale che lui tratteggia, che è Cesare Borgia. Il Principe è dedicato a Lorenzo dei Medici, quindi la figura di riferimento è sempre Lorenzo dei Medici, ma anche il Duca Valentino, il Cesare Borgia, è un riferimento, un riferimento importante. Nel Principe parla del Principato, di principati nuovi oppure ereditari, di come vanno gestiti, perché l'obiettivo, il famoso il fine giustifica i mezzi, è una frase con cui si riassume Machiavelli, ma che in realtà può portare a dei frantendimenti. Intanto bisogna chiarire qual è il fine. Il fine è non solo raggiungere il potere, ma anche riuscirlo a mantenere, e mantenere unito lo Stato. Quindi la ragione di Stato, infatti sarà introdotta poi da Machiavelli, è proprio quella che fa andare anche contro i propri principi per poter ottenere poi la coesione, l'unità del proprio Stato e che non venga sempre cambiata la forma di governo, non ci sia sempre instabilità. Quindi l'obiettivo è questo, il fine, l'unità, la liberazione dell'Italia anche dallo straniero, dalle potenze straniere. E i mezzi sono quelli leciti, leciti a volte, pensiamo, i politici si sono sicuramente ispirati a Machiavelli, da Machiavelli in poi fino ai politici più recenti, perché per poter ottenere i voti, i propri interessi, il politico deve, per esempio, lui non è contro la religione, anzi dice che il buon sovrano deve comunque far mostrarsi rispettoso nel confronto della religione, anche se Machiavelli poi aveva avuto tanti papi come nemici. Però la religione può essere un instrumento, un regno. Infatti poi nell'età moderna sarà decretato cuius regio e ius religio, cioè ogni re ha la sua religione e i sudditi devono praticare questa religione, perché la religione è un fattore di coesione sociale, quindi è importante che il re, diciamo, anche senza essere religioso, però abbia, diciamo, una sua religione e tutti i cittadini la condividano. Poi quali sono le virtù? Un principe deve essere temuto oppure deve essere molto amato? Forse lui dice meglio che sia temuto, che sia avaro, per esempio, perché se dilapida troppo le ricchezze poi non riesce più a governare. Le sperpere, come è accaduto, per esempio, a Maria Antonietta, a tanti sovrani che sono venuti più avanti. Deve essere severo, deve essere, perché Machiavelli usa un linguaggio anche metaforico, come la volpe e come il leone, cioè la volpe è astuto, quindi nei confronti dei nemici più forti deve essere astuto per riuscire a vincere con l'astuzia, con la furbizia. E leone, nel senso che, invece, deve essere anche coraggioso quando sa che ci sono dei nemici che si possono sconfiggere. Machiavelli ha una visione ciclica della storia. Nella storia si succedono disgrazie, si succedono eventi di vario tipo, senza che gli uomini possano tanto controllarlo. Però lo possono controllare con questa virtù e c'è questo rapporto tra virtù e fortuna che viene ripreso poi anche da Guicciardini. Cioè, l'uomo deve la fortuna, diciamo, Machiavelli è una donna e l'uomo lo deve saper battere, piegare per i propri interessi. Quindi, saper volgere la fortuna a proprio favore, la sfortuna, anche, diciamo, la malasorte, anche in proprio favore. E questo deve mostrarsi in vario modo, avendo anche la capacità di previsione. Cioè, lui dice, se noi riusciamo a costruire un argine bello potente, possiamo evitare che poi il fiume esondi quando arriva una piena. Quindi deve sapere anche prevedere quello che può succedere, quelle che possono essere le disgrazie che si possono avverare. Quindi, questo è un po' velocemente la figura del principe, che è una figura di realismo politico, di homo faber, l'uomo che si costruisce con le proprie forze, le proprie risorse. E quindi il principe non è un trattato utopistico, che delinea un principe ideale, ma è molto importante che il principe sia calato nel suo contesto storico, nel suo periodo in cui vive. Quindi Machiavelli, in questo senso, è molto storicista e anche pratico. Insomma, cerca di dare delle tecniche, dei consigli. Cassiere dice proprio delle tecniche per poter governare, l'arte di governare. In conclusione potrei leggere una citazione di Cicerone, che era uno degli autori preferiti di Machiavelli. Un buon politico deve avere le giuste conoscenze, stringere mani, vestire in modo elegante, tenere amicizie clientelare per avere un'adeguata scorta di voti. Quindi credo che questi consigli siano stati seguiti da molti politici che noi abbiamo anche nell'età odierna contemporanea. Da Zain, arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.